La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone un video contenente una bella galleria di elaborazioni digitali computerizzate in 3D, aventi come soggetto un magnifico esemplare di Fiat 1200 Granluce, modello dell'anno 1957. Nello specifico, il modello designato come Fiat 1200 Granluce che veniva assemblato nel reparto carrozzerie speciali della celebre casa automobilistica torinese, era sostanzialmente una versione evoluta e meglio rifinita del modello designato come Fiat 1100-103, che non sostituiva, bensì affiancava nel suo listino ufficiale, e del quale conservava la struttura. Tale modello venne prodotto, ottenendo un buon riscontro commerciale, per circa 4 anni, a partire dall'anno 1957, e sino all'anno 1960, e rispetto al modello dal quale derivava esso presentava un frontale dotato di una nuova mascherina e diversi fanalini, un abitacolo completamente rivisto, e diversa appariva pure la coda, che si presentava più alta, nonché dotata di pinne più vistose. L'appellativo Granluce traeva origine dalla maggiore luminosità dell'abitacolo di tale modello rispetto a quello dal quale derivava, luminosità che era favorita dalla presenza del parabrezza e dei vetri laterali più ampi, nonché da quella dell'unotto panoramico. Grazie a tutti. 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 Se vuoi mettigli un bel mi piace, commentalo, condividilo, aggiungilo ai tuoi preferiti, iscriviti a questo canale YouTube, e abilita le notifiche per essere costantemente aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi video. Ogni settimana la Giuseppe De Maria Production pubblicherà alcuni video dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.